Ben trovati, perché la liturgia della Messa ha questa forma? Questa è un po' la domanda che ci facciamo oggi, questa è un po' la domanda che abbiamo ricevuto in questi giorni in redazione. Io potrei rispondere prendendo la storia della liturgia, vedere quando questa liturgia era fatta nelle case dei cristiani, dopo nelle chiese, ma vorrei farlo attraverso un Vangelo, quello di Luca al capitolo 24. Quando parla dei discepoli di Emaus, questi discepoli che stanno andando verso Emaus, verso questo villaggio, e incontrano sul loro cammino Gesù. E si dice nel Vangelo, mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro, ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Gesù ascoltando le loro discussioni li vede tristi, amareggiati, chiede cosa è successo e loro dicono come non sai cosa è successo, c'era un grande profeta potente e l'hanno ucciso e noi siamo rimasti soli. Gesù dice ma voi non avete capito niente e comincia spiegando le scritture. Quando ha finito di spiegare le scritture, a un certo momento si fa sera e loro dicono non andare via, vieni con noi alla taverna che almeno lì continuiamo a parlare, perché queste parole li toccavano. Entrano nella taverna e lui fa la benedizione del pane e nella quella benedizione del pane quando sta per distribuire il pane lo riconoscono e lui sparisce. E alla fine dicono non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre li conversava con noi lungo la via quando ci spiegava le scritture. Bene perché vi ho raccontato questo episodio? Semplicemente perché è quello che viviamo a messa. La messa si compone dalla liturgia della parola è quello dell'eucharistia. È un po' quello che i discepoli di Emmaus hanno vissuto con Gesù. Prima la parola. Si dice che Gesù parla dei profeti, quindi dall'Antico Testamento fino al tempo contemporaneo che viveva lui, cioè per noi i Vangeli. La liturgia della parola è riprendere, ripercorrere attraverso le letture e poi l'Omelia, quel momento, quella rivelazione di Dio che si fa attraverso la parola. Ma dopo c'è quel secondo momento che è l'eucharistia, il rendimento di grazia, il momento in cui si ricorda il gesto di Gesù nell'ultima cena. Fate questo in memoria di me, il pane e il vino che diventano corpo e sangue di Cristo. E anche lì abbiamo questo episodio dei discepoli di Emmaus che nella benedizione del pane, nella frazione del pane, riconoscono Gesù. E noi lo riconosciamo nel corpo e il sangue sull'altare. Allora vedete che quello che i discepoli vivono in quel momento, in quel cammino, è quello che noi viviamo nella liturgia della Messa. È bello pensare che stiamo camminando, anche noi camminiamo con Gesù e a un certo momento si rivela attraverso la sua parola e l'eucharistia. Allora, cari amici, cerchiamo anche di riscoprire. È stato bello poter rispondere a questa domanda, perché ci invita a riscoprire il Signore attraverso la liturgia. Per alcuni la liturgia è solo uno spettacolo, per altri è diventato ritualismo, per altri ancora è una grande noia. Ma se noi cerchiamo di viverla come la riscoperta del Signore, forse allora anche noi arderà il cuore come è successo con i discepoli di Emmaus.